Cassiodoro Sporting Center a Squillace si tema lo stop dell'attività. Le attività del Cassiodoro Sporting Center di Squillace Lido rischiano di essere interrotte per una serie di motivi legati all'absolescenza degli impianti e probabilmente anche per i costi elevati a carico della società che ha in gestione la struttura. Il Cassiodoro Sporting Center è di proprietà dell'amministrazione provinciale di Catanzaro ed è gestito dall'ASD Gruppo Atletico Sportivo che si è aggiudicato l'appalto. Sito in via Olimpia, nei pressi della Statale Ionica, a pochi metri da Copanello, è stato realizzato dalla provincia più di 30 anni fa in un'area di circa 20.000 m2. Per molto tempo si era temuto che la struttura restasse un'incompiuta. Successivamente l'iter burocratico si è sbloccato e l'opera è stata completata con successo. Il centro comprende un'attrezzata piscina coperta di 25 metri, 7 corsie e circa 700 posti a sedere, oltre a campi da tennis e di calcetto, è un campo polivalente per la pratica della pallavola e della pallacanestro con relative tribune e spogliatoi. Di fronte alla paventata chiusura della piscina provinciale, il sindaco di Squillage Pasquale Mucari fa sapere di avere intrapreso contatti sia con la società sportiva sia con gli amministratori dell'ente. Intermedio. Mucari informa di avere dato la massima disponibilità alla soluzione dei problemi e di avere già ricevuto altrettante rassicurazioni. Stanno seguendo la vicenda con impegno e interesse anche l'assessore comunale al turismo e alla programmazione Franco Caccia e il presidente del Consiglio comunale Paolo Mercurio. Caccia in particolare rende noto che sono in corso contatti con il concessionario della gestione dell'impianto sportivo e natatorio di Squillage Lido e con gli amministratori e i tecnici della provincia per la definizione delle varie problematiche. Il Cassiodoro Sporting Center, conclude il sindaco Mucari, rappresenta un fiore all'occhiello per la nostra comunità e le attività dovranno essere certamente implementate. Si attendono gli sviluppi delle interlocuzioni avviate tra gli enti interessati.